Ti sei mai masturbata a casa di tuo cugino? Allora se rivolete un video tutti e tre insieme Facciamo arrivare questo video a minimo 2000 like Lo sentite il vento signori? Perché noi si Alle 15.42 vedi sbrigate Vedi sbrigate pure Vieni qua se vuoi fare il video con me Ah è vero Manco ho iniziato il video Bella ragazzi che abbiamo tornato qui sul mio canale In questo nuovo video molto speciale Certo perché ci sto io La piscina Ci sta la piscina come vedete alle nostre spalle E poi si c'è anche mia cugina Come stai? Tutto bene Bella la vita Quindi ti dicevo tu sai cosa faremo oggi? Si si un video già stato di instagram molto compromettente Esatto perché dovete sapere se non lo fate ancora Qui c'è il mio instagram quindi seguitemi su instagram Aspettate poi su facebook Ok seguitemi anche su instagram E praticamente abbiamo chiesto Mentre sta cadendo casa perché c'è un vento della madonna Io adesso molto non posso mettere gli occhiali Ma secondo te loro come fanno a capire Che tu prima non avevi gli occhiali? Sti cavoli Oh brava bene Abbiamo chiesto su instagram praticamente delle domande Che lei non ha letto Lei non ha letto queste domande Mentre io chiaramente sì Anche se la maggior parte non me le ricordo Perché ho l'alzheimer Quindi allora io direi che partiamo Una domanda molto tranquilla Dai Ma una di quelle che proprio Sei fidanzata? No Sono single Sei single e sei felice di essere single Senti ma quante volte nella tua vita? I cazzi vostri Oh beh Qui tutto proprio Gli è caduta la corona Qui la corona mi è caduta quando sono nata Senti adesso va bene che tu comunque non vuoi confidare cose molto prima Dove abiti? A Torre Angela Capito? La zona molto Quindi occhio Occhio E poi attenzione Attenzione Perché tra le domande più belle No vabbè questa è una vostra legge No allora leggi No vabbè Ti sei mai masturbata a casa di tuo cugino? No Certamente no Ti sei mai masturbata? I cazzi vostri Ah e si la risposta Non si sbilancia Non si Attenzione Non si Ma se Federico Ti proponesse di fare l'amore con lui Quale sarebbe la tua reazione? Che si attacca a una parte Che non Per non essere volgare più del dovuto Non dico Sta a raccogliere a lui la coroncina E infatti Devo raccogliere la coroncina Gli è caduta a sta raccogliere Lo sta Dai un voto Da 1 a 10 Alle parti intime di tua cugina Ma che cagliere? Questa la tagliamo Ma che vuol dire? Ma poi era per lei Domanda no per me Ragazzi Non si chiedono queste cose Cioè io pensavo di fare un video su YouTube Però evidentemente abbiamo sbagliato Questo è un video su Yuvo Spontini puntini Adesso dai Noi siamo cugini Ci vogliamo bene C'è una strazia che passa dietro Nonché tua madre Ma volevo chiederti Siete molto legati? Cioè tu e l'altro Ci vogliamo bene Anche se non ci vediamo tanto spesso Mai È vero È meravigliosa questa cosa Ali però così Il culo Vabbè ma non Tanto Hai mai fatto una cosa a tre? No Proprio con sincerità no Ma ti interesserebbe farla? Non guardare me Direi che dobbiamo chiudere con stile L'ultima domanda Tu fino ad adesso sei stata un po' sulle tue Ma sono convinto che questa domanda qui Ti farà proprio Manco troppo Ah Nicolas ci chiede No ma ne la posso leggere questa Ce stanno tutti Ma che domanda è? Ma no ma è una domanda un po' Vi baciate di lingua Vabbè dai Cioè è un bacio Famo a stampo Va bene ragazzi Questo era il primo e l'ultimo video Il canale da solo con mia cugina Almeno quando facciamo le cose a tre con mio cugino Le cose a tre Le cose a tre con mio cugino Vieni a salutare cugino Allora se rivolete un video tutti e tre insieme No Sì Facciamo arrivare a questo video a minimo 2000 like Minimo Minimo Cugina Per al prossimo più otto Pure Bene ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video Sei stata contenta di essere tornata sul canale Molto contenta Fate seguitemi su Instagram così mi devo mettere follower Allora so più importante esatto Un bacione Iscrivetevi Passate in descrizione Ciao Never give up Ci vediamo al prossimo video Cugina Ciao Ben bacetto Almeno a loro taglierò il bacetto No no Fai proprio un bacetto alla telecamera No 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 Ciao